Io sono di origine bulgara, quindi conosco molto bene il mondo slavo e quando mi è stato chiesto da dove provengo, cosa ne penso di seguire i mercati dell'ex regione sovietica e i mercati del mondo slavo, sicuramente è stata una cosa che mi ha molto incuriosito, soprattutto come tutti ragazzi giovani, ero giovanissimo tra l'altro, con poca esperienza alle spalle, allora ero molto contento di aver trovato un'azienda disposta ad investire sulle mie capacità, di credere in me anche senza conoscermi. Sono stato molto fortunato e molto contento perché con il mio lavoro ho potuto visitare dei paesi lontani, paesi come il Kazakistan, come Kisistan, in quegli anni lì nel 2002, appena cominciava a parlare, parecchia gente non sapeva neanche dove fossero. Andare in questi paesi era una cosa super curiosa, ero molto emozionato, è emozionato anche prima della partenza, appena cominciavano a parlare del boom del paese del Kazakistan quando noi eravamo già presenti, eravamo delle prime aziende ad arrivare sul posto, come anche per esempio in Uzbekistan, anche in altri paesi e sono stato sempre molto orgoglioso, molto contento di poter svolgere il mio lavoro.